Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo dei lavori di affinamento, ovvero tutti quei lavori che precedono la semina. Quali sono questi lavori? Questi lavori sono l'estirpatura, l'erpicatura e la rullatura. Iniziamo a parlare dell'estirpatura. L'estirpatura possiamo dire che è una lavorazione che va a braccio con l'erratura. L'erratura è una lavorazione che abbiamo visto nella video lezione precedente. E fa parte proprio di tutte quelle pratiche agricole che preparano il terreno proprio per la semina. Infatti dopo una buona erratura l'estirpatura ha due funzioni fondamentali. La prima è quella di ridurre le zollosità del terreno. La seconda è quella di portare in superficie le radici delle erbacce, che vengono così esposte all'azione dell'aria e del sole, e così seccheranno e successivamente moriranno. Quest'ultimo punto è molto importante. Infatti sembrerebbe apparentemente inutile se poi vogliamo trattare le culture con eventuali erbicidi, cioè con sostanze che andrebbero ad uccidere le erbe infestanti. Ma scientificamente, anche agronomicamente parlando, è fondamentale perché riduce del 45% la presenza di erbacce. Questa pratica può essere fatta anche a fine inverno, su un terreno già che è stato arato nell'estate, o anche nell'autunno precedente, in modo da rendere anche il terreno più soffice. Per quanto invece riguarda le malerbe, cioè le erbe infestanti, anche in questo caso proprio l'estirpatura può distruggere la vegetazione indesiderata, che è cresciuta durante l'inverno. Con quelli mezzi andiamo a realizzare una estirpatura? I mezzi con cui può essere praticata una buona estirpatura sono molto diversi fra di loro, lo vedete anche in queste immagini. E variano in relazione al tipo e anche al meccanismo di funzionamento. E sono sicuramente negli ultimi decenni hanno subito delle notevoli innovazioni. La maggior parte di questi strumenti sono strumenti discissori, cioè strumenti che permettono di separare le zolle dalla terra, quindi ridurre le zolle e frantumarle. E oltre a questo le radici vengono ridotte in piccoli pezzi ed estirpate. Sono tenuti insieme da un telaio, lo vedete, questo qui, e possiedono più bracci. E questi bracci alla fine sono caratterizzati da quello che può essere questo scalpello. Quindi immaginate una situazione del genere, quindi un braccio con questo scalpello qui. Quindi questo è il telaio, il braccio e lo scalpello. Come avviene l'estirpatura? Nella pratica sono proprio i bracci e l'estirpatore ad avere la funzione di estirpatura. La macchina viene attaccata ad un trattore, i bracci vengono infissi nel terreno, quindi come vedete qui, vengono infissi nel terreno e tramite il trascinamento separano le zolle e rastrenano le erbacce, portandole in superficie. I risultati della pratica dell'estirpatura sono tanto migliori quanto più è elevata la velocità di avanzamento del trattore e quanti più passaggi vengono effettuati. Quindi più è elevata la velocità e più sono i passaggi che vengono effettuati. Questa pratica agricola è una pratica agricola poco invasiva, infatti la profondità di lavorazione si aggira intorno ai 15-20 cm di profondità, che sono delle misure ottime se si vuole mantenere una efficace e corretta struttura del terreno, quindi non andiamo ad invadere gli strati più profondi del suolo. Quali sono gli svantaggi, gli aspetti negativi? L'unico svantaggio che ha l'estirpatura è quello di essere una pratica non sufficiente per la preparazione del letto di semina, quindi devono essere fatte ulteriori pratiche agricole. Infatti dopo l'estirpatura deve essere eseguita anche quella che vedremo successivamente che è l'erpicatura, proprio per ridurre ancora meglio la zollosità e rendere in questo modo il terreno ancora più soffice. Vediamo dopo l'estirpatura, che come abbiamo visto si segue con gli estirpatori, qual è la seconda pratica che rientra tra i lavori di affinamento, ovvero l'erpicatura. L'erpicatura è una delle pratiche agricole più importanti per preparare il letto di semina, ma a volte per molti motivi viene eseguita anche quando noi abbiamo già effettuato la semina e come abbiamo visto di solito è successiva proprio all'erpicatura. È un'operazione agronomica anche questa poco invasiva, la profondità è di 5, varia tra i 5 e i 15 centimetri di profondità, quindi non andiamo anche in questo caso ad intaccare le parti più profonde del suolo. Quali sono gli obiettivi dell'erpicatura? Ne elencherò alcuni. Il primo obiettivo è lo sminuzzamento, lo sminuzzamento delle zolle di terra, che sono ancora troppo grandi e compatte. Il secondo obiettivo è la sostituzione dell'aratura, quindi l'erpicatura può totalmente sostituire la pratica dell'aratura, dipende naturalmente dalle condizioni del suolo. Il terzo obiettivo è quello di distruggere le erbacce. Se non viene fatta l'estirpatura. Il quarto obiettivo può essere quello di interrare i concimi. Può servire anche per interrare dei diservanti. Un altro obiettivo è quello di rendere piana la superficie del letto di semina. E come ultimo obiettivo, quello di rompere la crosta di terra indurita. Magari per esempio a causa di piogge o di terreni tendenzialmente molto duri. Lo sminuzzamento delle zolle è importante sia perché favorisce una buona esecuzione della semina e quindi la nascita regolare e poi successiva del seme, ma anche perché favorisce una migliore efficacia dei diservanti, cioè di quegli interventi che servono per eliminare tutte le erbe infestanti che possono nascere o che sono presenti nel nostro terreno. Con quale strumento si esegue l'erpicatura? L'erpicatura si esegue con l'erpice. Ci sono diversi tipi di erpice. La scelta deve essere fatta a secondo del nostro obiettivo, di ciò che vogliamo fare sul terreno, delle condizioni del terreno stesso, del tipo di suolo. Gli strumenti che esistono, che vengono normalmente utilizzati, si diversificano in diverse tipologie di erpici. Noi ne andremo a vedere soltanto due. Il primo, quello che vedete qui, è l'erpice a dischi o erpice con denti rotanti. Questi erpici si utilizzano se si vuole un lavoro molto energico, uno sminuzzamento delle zolle di terra accompagnato anche da un rimescolamento delle zolle stesse. Immaginate questo che viene trascinato, addirittura in questo caso abbiamo due assi con erpici inclinati in modo opposto, quindi questo viene trascinato dal trattore, secondo questa direzione. Immaginate che tipo di intervento e di sminuzzamento viene effettuato sul terreno. Il secondo tipo è quello che vedete qui in basso, ed è l'erpice ad elementi snodati. L'erpicatura fatta con questa seconda tipologia di erpice è sicuramente molto meno invasiva rispetto all'erpicatura con un erpice a dischi rotanti. In questo caso, se le zolle del suolo hanno già subito una certa frantumazione, oppure già è stata fatta una buona estirpatura, con questo tipo di erpicatura avremo uno sminuzzamento e contemporaneamente un livellamento di quello che è il futuro letto di semina. L'ultimo lavoro di affinamento che vi voglio descrivere è proprio la rullatura, che viene eseguita con il rullo compressore o il rullo francizzolle. Che cos'è questa rullatura e a che cosa serve? La rullatura del terreno è una pratica agricola molto comune e soprattutto in questi ultimi anni. Infatti, l'agricoltura moderna sente proprio il bisogno, ancor più che in passato, di una perfetta sistemazione superficiale del suolo. Con la rullatura si favorisce infatti il corretto funzionamento di numerose macchine agricole che poi successivamente andranno a lavorare il terreno dopo che la semina è stata effettuata. La rullatura viene eseguita a secondo dei casi o prima della ratura o prima dell'erpicatura o prima della semina. Dipende molto, come sempre, dal tipo di terreno e dalle condizioni del nostro terreno. Qual è l'obiettivo della rullatura? È abbastanza intuitivo. È quello di dare al suolo un giusto assestamento. La rullatura è una pratica agronomica molto delicata e non è detto che debba essere sempre realizzata. Infatti, se il terreno è molto umido, addirittura questa pratica potrebbe andare a compattare eccessivamente il terreno e quindi, invece di essere una lavorazione che migliorerà il letto di semina, addirittura può andare ad alterare quella che è la compattezza del terreno. Questi, come vedete, sono gli strumenti che generalmente vengono utilizzati per fare una rullatura. Il rullo compressore, lo dice la parola stessa, quindi cerca di comprimere e quindi, come vi dicevo, riduce la permeabilità del terreno o il rullo frangizzolle che contemporaneamente, oltre a livellare e dare una certa uniformità al terreno, frange le zolle, cioè rompe ancora meglio le zolle e quindi favorisce anche in questo caso una sminuzzatura di quelle che possono essere delle zolle ancora troppo grossolane.